E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e bentornati in questo nuovissimo video di Arturnet Gioco vecchissimo, non vecchissimo, 3 mesi fa l'ho fatto e io l'ho fatto naturalmente 3 mesi dopo, giusto? Facciamo play, single player, mappa play, play, 90% e iniziamo E' molto simile a Minecraft Ok Da quello che ho saputo ci sono gli zombie C'è tutta la macchina che esce da fuori Si, la macchina che... ci sono le macchine che passano fuori lì Vediamo se possiamo spaccare l'albero No, niente, non lo possiamo spaccare Si corre con shift I controlli sono WASD Già uno zombie Stanno tornando da me E quanti colpi ti servono per essere morto? Un attimino ragazzi, torno subito Un attimino ragazzi, torno subito Un attimino ragazzi, torno subito Olè, eccomi qui Pronto per l'invio Pronto per iniziare Pronto per iniziare Coltizionano zombie E naturalmente ci deve rompere i coglioni Altonati Oddio quanti grazie di zombie ci sono Oddio Mori, mori Si aveva un'arma di salao Oddio Che... che è sta guerra? Che è sta compattezza qua? Come si prende F? Oddio Mare lecce Mannaio Oh, abbiamo trovato un faro No, l'abbiamo trovato Morendo abbiamo trovato un faro Dai corri lezzo Che... che... che fumore fa quando muore la mano? Che cos'è questa? Una magnum Mi piace, mi piace Come faccio ad utilizzarla? Come si tocca? E? F? Com'è l'inventario? Questa è la chat Qual'è l'inventario? Ok Equip Olè, abbiamo la nostra magnum Yeah Cos'è questo? Oddio Oddio Eh? Volevi? Si, prendiamo questo Non lo posso equipaggiare Però mi sembra che posso Posso mettermi tipo... dove sono? Non avevo... ah no, perché sono morto, giusto Volevo mettermi i vestiti che avevo trovato Proiettili Proiettili E proiettili E proiettili Che non sono di quest'arma sicuramente perché noi abbiamo... Eh? Come cazzo di scendere sulle scale questo tizio Oddio Mi sono boccato Cazzo Ah Così scendeva in un'altra maniera E dov'è la pistola? No... No, 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 no Non c'è la pistola Non mi puoi ammazzare Non mi puoi ammazzare C'è la pistola C'è la pistola maronna non mi puoi abbassare io sono io non si ammazza ma chi è questo adesso chiocchi dove la troviamo al cavallo cerchiamo un villaggio ah ma non eravamo morti qua si eravamo morti qua faccio uscire i zombie ok ole vediamo se questo è un coltello scrivati tutti ce l'ho qualcosa grande grande devo solo scappare vai scappa maronna tua scappa 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 è sempre il telefono che suona qualcuno risponda non ho più colpi aiuto 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 ragazzi abbiamo ripreso e siamo qui in un nuovo mondo o no non mi ricordo perché stavo suonando il telefono ho dovuto rispondere e qui ho dovuto anche tagliare il video dovrò tagliare il video dell'editing qualche alzozze notte cerchiamo di trovare qualcosa dai ole che culo corri corri anche in discesa vai piano però non ci facciamo notare non si può non si può non si può non si può tipo passarsi per non farsi vedere si può passarsi tipo per sì otti sto toccando il tasto a muzzo questo niente lasciamo stare dai ecco mi hanno natato affanculo andiamoci andiamoci mi serve una pistola mi serve qualcosina e f mi serve qualcosa giro giro tordo casca il mondo f casca la terra e noi ce la diamo per terra mi sa che sono incastrato qua dentro qualcosina f qualche pistola qualcosa non c'è sono fottuto andiamo e corri maronna questo qua non c'è un cazzo non c'è niente qui giro ottimo non c'è un giro giro tondo per favore por favore troviamo qualche arma oppure quella macchina per fuggire da qui una pistola prendila porco dio prendila ho premuto eh ho premuto ma no ma no ma no vaffanculo va vai respawn che cazzo premo f e non me la prende se ora ci mettiamo cento anni per rientrare qua dentro cosa scavalcare no vaffanculo nuvole molto simili a quelle di minecraft poche te le dice ma la lasciamo poi non so neanche se si possono spaccare questi blocchi con i picconi non so neanche se si possono fare i picconi mannaccio la miseria giro giro tondo casca la c'è una macchina io non ho un cazzo e c'è uno zombie dietro come se non va che c'è c'è che gridi aiuto macchina 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 fatemi prendere qualcosa non ci posso perdere la caccia andiamo scappiamo 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 andiamo andiamo come si accelera ma dopo che il rumore e te non ho un cazzo Gesù ma dopo dove mi sono andato a cacciare ma dopo ma dopo non li toccare ma dopo ma dopo ma dopo muori si era meglio morire guarda perché una volta tanto pazienza mi li ammazzo tutti e poi si spavano sempre nello stesso punto ecco qua è che ti dicevo io ci facevano dare da quello zombie di merda quanto passa stasera quanto passa stanotte non attirare gli altri i e e ott io dove pensi che ho fatto questa prima non c'è niente ma porca tua mamma ogni volta che palle questa volta andiamo da questa parte vediamo ma i zombie mi vedono da lontano ma vai a quel paese ma non riusci fatevi ammazzare e se no qua un'altra volta qui ce l'ho spavolato no, meno male vediamo che palloso però almeno in minecraft vuoi fare qualcosa qua proprio una beata ceppa di micchia perché non si capisce niente poi le text sono applicate benissimo complimenti che ci faccio con questo c'è qualcosa di cui posso vivere qua c'è qualcosa di cui posso vivere qualche medicina un arco che non ha frecce non posso morire c'ho il coltello c'ho il coltello che palle va bene ragazzi spero che questo video possa essere tutto e ci becchiamo in un prossimo video proviamo ad assaltare nuovamente quella casa se non ci rischia come Renzi se non riesco ad assaltare di nuovo quella casa mi sa che ci becchiamo in un prossimo video lasciami capisco che a minecraft andavi ad attaccare gli tuoi gli zombie perché loro non ti vedevano ad una certa distanza però qua qua ti vedono da 500 metri no qua prima c'era il coltello qua e ora c'è la pistola no 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 c'è la pistola non posso morire c'è la pistola no ma mi suicido si eeeh mi suicidiamoci si vaffanculo vabbè ragazzi ci becchiamo in un prossimo video e ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ho sbagliato tasto